Il cliente cerca di portare il più avanti possibile la propria auto, cercando di farla sopravvivere nel migliore dei modi. Ci sono degli interventi che negli ultimi anni sono ritornati in auge perché si fanno revisioni anche importanti. Insomma, se fino a qualche anno fa davanti a un problema serio la macchina vecchiotta veniva cambiata, oggi in tempo di crisi non è più così. Chi ha una vettura cerca di farla durare il più possibile, la fa sistemare, si fanno interventi impegnativi anche su mezzi ormai datati. Nell'ultimo anno specialmente 4-5 interventi importanti come la revisione completa di una testata piuttosto che una revisione delle fasce elastiche. Insomma, interventi importanti che riguardano il propulsore e non semplicemente la manutenzione ordinaria o le usure ordinarie che ha un veicolo. Con il 2013 aumenta il pedaggio autostradale, l'assicurazione sarà più cara, le multe più salate, per non parlare della benzina che lo scorso anno ha toccato livelli record. L'automobile, con le attuali difficoltà economiche, diventa quasi un lusso. Anche per questi motivi, chi ha un mezzo tenta tutte le soluzioni per allungarne la vita. Questa in particolare è una macchina di un signore anziano, ha detto mi serve ancora per un po' di tempo, deve rifare la frizione, una riparazione di circa 430 euro. Magari qualche anno fa avrebbe detto basta, la macchina è vecchia, la cambio. Invece adesso questo tipo di intervento ormai è diventato di routine. Molte persone poi, per risparmiare, si rivolgono ai centri di autodemolizione. Chiedono i pezzi di ricambio usati, in quanto possono risparmiare un po' di soldi. Chi ne vuoi, ad esempio, cosa cercavate? Una cassa di uno stereo, a posto di 60 euro costa 5 euro.